Se partiamo piano ci raffreddiamo perché con le giudizie dobbiamo alzare ancora la temperatura per cui l'arroccio deve essere sempre e comunque positivo al di là delle temperature. Sicuramente l'attenzione iniziale è importante perché magari se parti con un ritmo basso poi darà il modo agli avversari di entrare prima in partita, di farsi di coraggio e possono essere più pericolosi. Noi dobbiamo cercare come sempre di avere una partenza buona come lo è stata in diverse partite.